Il testo che è in Guarani dice che il nostro capo Seppe ci ha donato la nostra terra, quando egli morì, disse che il popolo era un popolo lindo, ma ora non lo è più, a causa della acculturazione, dalle guerre, dagli fermini che ci fa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.